Allora, tu subito ti sei resa conto, mi hai detto, della situazione, ma prima che tu lo vedessi, appena entrato, tu avevi il sorriso negli occhi e sulle labbra. Poi hai capito che la situazione invece era completamente diversa. Da che cosa? Cioè che cosa ti ha fatto cambiare così improvvisamente? Perché quelle mani sono diventate di ghiaccio? Io ero appunto all'inizio contenta, perché in realtà in famiglia abbiamo un rapporto sanissimo, ero felicissima di vedere mio padre, non avrei mai paura. Successivamente guardandolo negli occhi, non l'avevo mai visto così, mi sono subito resa conto che c'era qualcosa che non andava. Quando mio padre è così, sapevo. E quello è stato il momento in cui io mi sono irrigidita e ho pensato poi... Che succede? Che cosa succede? Soprattutto in una situazione psicologica come la mia, perché comunque sei alienata, no? Non sapevi nulla di quello che c'era fuori e quindi è stato un po' uno shock. Quindi lo spavento era più il pensiero all'esterno che quello di mio padre in per sé. Io non ho paura di mio padre, è ridicolo. Anche perché non è stato un padre oppressivo, mi pare di capire... Ma io sono... Sei serena. Sono veramente serena, ho fatto mille esperienze, una persona che è uscita. Hai viaggiato per il mondo, hai viaggiato in tre paesi diversi. Sei diversa, hai 26 anni, sei stata a Dubai, sei stata in Svizzera, sei stata... Lavoro, sei studiato fuori, hai sempre avuto esperienze internazionali. Esatto. È un po' Grazie a tutti